3 3 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 6 10 10 11 12 12 12 12 13 14 15 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 16 16 15 16 15 15 16 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 17 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 19 20 21 21 20 20 20 20 20 22 20 20 22 20 22 22 che la persona del Gates Week stava lì ok, wow quanto è che si vedrà? è tutta la zona che si vedrà dall'auto è tutta la zona che si vedrà è tutta la giornata perché la luce della luce Magari la chitatura che mi ricorda qualcosa Penso che quello se ne insegna a te Io devo portare l'anello Questa è la mia 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 Oh 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 E' a nulla Sì E' fatto un po' a nulla Questo sta più suave Ma è morti E che si sa veramente hanno molto Inverna E 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